Allora, buongiorno a tutti e bentrovati qui con noi. Io sono Marco Piemontese, lavoro in Autodesk come Product Specialist per Fission 360, seguo il mercato italiano. Qui con me oggi collegato, vedete anche voi, c'è Diego Consetto, Technical Specialist, sempre per Fission 360. Ciao Diego, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Vi diamo il benvenuto a questa presentazione, vi ringraziamo per essere registrati e per aver preso questo tempo per scoprire l'ambiente CAM avanzato ed edificio in 360. Vedremo come sarà possibile migliorare in questo modo velocità, qualità ed efficienza delle vostre macchine con questo ambiente di Fission. Andiamo a vedere quella che è l'agenda della presentazione di oggi. Partiremo da una bellissima introduzione in appunto mia di Diego, di chi siamo, cosa facciamo in Autodesk. In seguito andremo a vedere quelle che sono le sfide che con Fission 360 sarà possibile appunto indirizzare rispetto a quelle che sono le sfide che i reparti di produzione possono trovarsi davanti ad affrontare. Successivamente parleremo brevemente di che cos'è Fission 360, per chi magari ha meno familiarità con il programma. E passeremo poi dunque al piatto principale di oggi che sarà appunto la parte di dimostrazione live dell'ambiente CAM Machine Extension e appunto in merito a quelle che sono state anche sfide citate. Finiremo dunque con un riepilogo e appunto come dicevo precedentemente andremo comunque a rispondere le vostre domande, se ci saranno le vostre domande live, quindi lasciatele in chat appunto nella sezione Q&A. Allora, come dicevo, io sono Marco Piemontese, lavoro come Product Specialist, lavoro qui in Autodesk da gennaio di quest'anno, ho un background in ingegnere meccanica, ho lavorato nel settore macchine utensili di elaborazione meccaniche e successivamente ho anche lavorato nel campo dell'Information Technology, quindi sempre per soluzioni applicativi, software, cloud. Da questo mix di esperienze, diciamo, ho voluto poi unirmi ad Autodesk per apportare questa mia curiosità e questa mia esperienza, con l'obiettivo di seguire le aziende e aiutarle a trarre i maggiori benefici, soprattutto applicati nel contesto appunto di innovazione digitale per progettazione e per manufacturing. Diego, lasciate la parola. Grazie Marco. Allora, io sono Diego Ponzetto, Technical Specialist per quanto riguarda Fusion 360, mi occupo di tutta la fase di pre-vendita per quanto riguarda Fusion 360 come Technical Expert, per essenzialmente insieme ai miei colleghi tutta Europa. Nasco io dal punto di vista professionale come progettista e programmatore di macchine utensili e negli ultimi 15 anni mi sono concentrato di più sulla consulenza in termini in ambito CAD, CAM, PDM e analisi elementi finiti. Quindi, nella mia esperienza, quello che cerco, diciamo, il mio obiettivo è sempre quello di portare anche le mie conoscenze a vantaggio di quella che può essere magari un'ottimizzazione del metodo di lavoro di quelli che sono i nostri clienti. Detto questo, lascio di nuovo la parola a Marco. Grazie, grazie Diego. Allora, partiamo quindi con l'introduzione invece a quella che è il webinar, anche se andiamo al prossimo slide, Diego. Ti ringrazio. Perfetto, allora, come dicevo, in questo webinar di oggi esamineremo come Fusion 360 e in particolare il suo ambiente CAM avanzato possa aiutare programmatori CAM, ingegneri di produzione e operatori di macchine CNC a fare un uso migliore di quello che è il loro macchinario installato nelle parti di produzione per produrre parti migliori e in minor tempo. Quindi, gli obiettivi di apprendimento di oggi, come vedremo, saranno quello di utilizzare sonde macchina per andare a fare una tonalizzazione di quello che è l'azzeramento, appunto, pezzo e l'azzeramento dei riattrezzaggi, quindi per ridurre quelli che sono i tempi di inattività della macchina. Andremo anche a vedere come generare percorsi multiasse, per lavorare particolari più complessi, con meno setup, e quindi con anche densiti più corti, piuttosto che appunto per migliorare quello che sono i vostri percorsi di lavorazione. E poi andremo anche a vedere come utilizzare percorsi utensi di performanti per migliorare quella che è la qualità superficiale, quindi l'efficienza della lavorazione, utilizzando appunto sempre anche la programmazione del sonde in process per utilizzare appunto l'ispezione in ciclo. Grazie Diego. Prima di arrivare a questo, però, andiamo un attimo a parlare di quelle che sono le tipiche sfide che oggi le parti di produzione devono affrontare. Abbiamo raccolto principalmente cinque sfide che ci sembrano oggi rilevanti, e ne parleremo più profonditamente nelle prossime slide, giusto per dare una breve overview. Ovviamente c'è, diciamo, la passante sfida di rimanere al passo con quelle che sono le modifiche di design, quindi per quanto riguarda quelli che possono essere cambiamenti da parte dell'ufficio tecnico, da parte del cliente, su quella che la matematica, al modello di prezzo. C'è il bisogno ovviamente di, in realtà, automatizzare alcuni processi per renderli ovviamente ripetibili, ridurre quelli che sono ovviamente gli scarti, i costi e i tempi di consegna. C'è anche ovviamente la sfida di massimizzare quello che è l'investimento fatto nei macchinari esistenti o futuri. conseguentemente quello di, alla fine ovviamente del nostro ciclo, diciamo, di lavorazione produttivo, aumentare quella che è la qualità delle parti prodotte. E in ultimo, collegato soprattutto a quel che è la forza lavoro all'interno dell'azienda di oggi, il mercato, diciamo, del lavoro, quello di affrontare quello che è il divario di competenze e il gap che si sta creando tra ovviamente il personale qualificato e ovviamente anche i posti disponibili sul mercato del lavoro. Andiamo a vedere più nel particolare cosa intendiamo con modifiche di progetto. Sappiamo benissimo che ovviamente queste sono, diciamo, una delle principali cause che può ritardare quelle che sono ovviamente le consegne o ritardare la produzione ed è importante capire ovviamente cosa succede ogni qualvolta c'è una modifica di questo design, quali sono, diciamo, i costi collegati e ovviamente anche come queste modifiche vengono comunicate. In questo caso, grazie a Fusion 360 appunto, possiamo semplificare quello che è il processo di revisione e di modifica dei particolari e possiamo andare a creare una perfetta associatività CAD-CAM tra quella che è la matematica del pezzo e poi anche quella che è ovviamente diciamo la nostra scheda di lavorazione quindi in maniera tale che il team di produzione sia sempre aggiornato con le ultime, diciamo, modifiche che arrivano al progetto. Il classico esempio appunto a patto che ovviamente queste modifiche vengono pubblicate tempestivamente però sapete bene che se un cliente mi manda una versione aggiornata se l'ufficio tecnico mi effettua una modifica questo comporta ovviamente un fermo di quello che è la produzione per andare ovviamente a riprogrammare il pezzo confrontandolo ovviamente con le versioni precedenti. In questo caso, Fusion 360 grazie alla sua, diciamo, base comune di dati può aiutare e creare un link diretto tra quella che è la matematica e quello che è poi anche la parte di programmazione di percorso utensile. Grazie Diego. Perfetto, andiamo a vedere invece cosa intendiamo oggi per automazione dei processi che era la seconda sfida che vi avevo citato. Ovviamente nel mondo manufatturiero esistono diverse tipologie di automazione diciamo, inerente a quella che è la presentazione di oggi inerente anche a quello che è Fusion 360 per automazione intendiamo ovviamente una soluzione software che diciamo vi aiuta a rendere ripetibile e automatizzare processi di progettazione e di programmazione. Quindi utilizzando appunto gli algoritmi all'interno dell'ambiente di Cine Extension con Fusion 360 possiamo andare a rendere replicabili e anche a accorciare quelli che sono i tempi appunto di programmazione dei nostri pezzi. In questa maniera ovviamente andiamo anche a rendere un processo più controllato e ripetibile andiamo a ridurre quello che è anche l'incidenza ovviamente di quello che può essere l'errore umano o manuale se questi processi venissero effettuati in maniera appunto scollegata da un software appunto a bordo macchina più di tutto che manualmente e alla fine di questa ovviamente catena di valore andiamo ad avere quello che è si tradurrebbe ovviamente in quello che è un aumento della qualità e un conseguente appunto processo ripetibile a fine alla valle del nostro catena di valore. il terzo la terza sfida che abbiamo visto ovviamente sempre attuale ovviamente è quella di poter diciamo massimizzare l'utilizzo delle macchine sia che sia una macchina esistente a nostra disposizione sia che ne stiamo andando ad acquistare nuove ovviamente è importante massimizzare il ritorno dell'investimento tramite più 160 ci sono diversi modi nella quale il software vi può aiutare innanzitutto come dicevamo all'inizio ad esempio aiutarvi a rendere diciamo rendere automatico quello che è il processo di setup e quindi ridurre al minimo il tempo di inattività della macchina ma anche grazie alla capacità ovviamente di programmare percorsi multiasse sarà possibile ridurre quello che sono i setup richiesti per la lavorazione finita di un pezzo o ad esempio ridurre anche al minimo le linguette utensili con una conseguente ovviamente riduzione di quelle che potrebbero essere eventuali fastidiose collisioni tra il pezzo e l'utensile tra il pezzo e la macchina che come sappiamo possono diciamo poi risultare ovviamente in fastidiosi extra costi nonché anche ovviamente in fermi linee in ultimo grazie diciamo alla possibilità di programmare anche la tastatura pezzo durante il ciclo di lavorazione possiamo far sì che diciamo riusciamo a tenere sotto controllo la qualità del pezzo durante la fase di produzione senza aspettare ovviamente un feedback dal reparto metrologia o dal nostro reparto qualità e quindi anche qui ridurre quello che è il tempo di fermo macchina e eventuali rilavorazioni che possono sorgere appunto se il pezzo non fosse intolleranza andiamo sulla quarta sfida grazie Diego che ovviamente si ricollega un po' alle precedenti che abbiamo visto che come dicevamo grazie al fatto che diciamo con la parte di automazione del software con anche la parte ovviamente di diciamo associatività carcam quindi di modifiche di quelle che sono le fasi di design e produzione tutte queste fasi possono essere registrate in fusion tutti questi processi possono essere quindi tenuti sotto controllo in maniera molto più puntuale visibile alla fine diciamo di tutto quello della nostra catena di valore grazie all'utilizzo di queste tecnologie in fusion possono rendere il nostro processo più ripetibile possiamo anche andare a capire laddove ci possono essere dei punti di discontinuità e quindi alla fine di tutto questo processo potremo andare a aumentare quella che è la qualità delle nostre parti prodotte in ultimo sfida che vi avevo citato andare a compensare quello che è il gap di competenza sappiamo benissimo che se chi di voi fa programmazione a bordo macchina o utilizza appunto metodi di azzeramento manuale sappiamo benissimo che questi processi sono collegati anche un po' a quella che è l'esperienza del nostro operatore della macchina utensil se un operatore che è molto diciamo esperto di questa macchina riuscirà a fare queste operazioni ovviamente in un tempo ottimizzato in un meno tempo possibile ma se questo programmatore è in ferie se questo programmatore mi va in pensione o cambia azienda sicuramente avremo più difficoltà anche nel formare una persona nuova che mi va a lavorare con la macchina appunto grazie all'utilizzo di Fusion 360 cosa possiamo andare a ovviare cosa possiamo fare possiamo andare a immagazzinare questa conoscenza che ovviamente è stata sviluppata anche in ogni di ovviamente esperienza con la macchina esperienza con i pezzi e possiamo andare a renderla disponibile a più persone all'interno dell'organizzazione cosa intendo disponere più persone all'interno dell'organizzazione nel senso che possiamo immagazzinare queste best practice e possiamo far sì che come dicevamo prima il processo sia ripetibile indipendentemente da quello che è il fattore umano quindi possiamo andare a rendere questa conoscenza anche poi disponibile eventualmente a nuove persone nuove operatori possono quindi apprendere in un minor tempo tutte quelle che sono le diciamo le spatti necessarie che avete sviluppato grazie Diego quindi ora che abbiamo definito cosa intendiamo come sfide e quali potrebbero essere diciamo quali di queste che voi diciamo potreste affrontare passiamo a parlare di cos'è Fusion 360 quindi so che alcuni di voi magari già lo conoscono ma come dicevo diamo una rapida occhiata per chi magari ha o meno dimestichezza col programma Diego possa partire col video vediamo se perfetto il live della diretta va comunque nella sua definizione più semplice Fusion 360 è una piattaforma integrata di progettazione ingegneria che è basata sul cloud e combina diversi ambienti di lavoro quindi combina diverse discipline che diciamo tradizionalmente erano spollegate su programmi diversi combina appunto funzionalità di design industriale ingegneria meccanica programmazione di macchine utensili il tutto in un'unica soluzione software perché questo ma questo diciamo nasce prossimo slide Diego grazie nasce dall'esigenza e dalla volontà di Autodesk di differenziarsi sul mercato in tre modi principali il primo di tutto offrendo una soluzione appunto integrata quindi andare a prendere diciamo quelle che erano tecnologie competenze che erano su software diversi che non si parlano di solito tra loro e portarla all'interno di una stessa di uno stesso ambiente quindi questo ovviamente semplifica quello che è il collegamento tra tutte le fasi di processo di sviluppo e lavorazione di un prodotto ma in secondo luogo anche rendere questi processi collaborativi cosa intendiamo con collaborativi Fusion vi dà la possibilità di visualizzare i vostri modelli e le matematiche 3D all'interno di un'unica fonte dati quindi potreste ovviamente anzi potete ovviamente collaborare molto più facilmente nel vostro interno ma anche al vostro esterno quindi poter essere sempre diciamo aggiornati su quelle che sono gli stati avanzamenti i lavori su tutte quelle che sono le modifiche di un progetto in ultimo rendere anche più accessibili queste tecnologie con accessibili diciamo ci sono due declinazioni possiamo intendere accessibile dal punto di vista economico se vogliamo grazie a quella che è l'offerta ovviamente di Fusion 360 ma anche renderle accessibili da più dispositivi abbiamo visto come ovviamente la situazione di lavoro si è cambiata nell'ultimo anno e mezzo questo è passato rendere accessibili anche questi design al di fuori di quella che è un'unica workstation vi permette di potervi collegare in officina potervi collegare in ufficio tecnico potervi collegare da casa se ne avete bisogno e così via ora visto questo grazie Diego lascio a te la parola per appunto addentrarci più in quella che è appunto la parte di machine extension che vediamo oggi grazie Marco grazie dell'introduzione è riuscito a sentirmi sì allora machine extension intanto rinnovo ringraziamento ad aver trovato del tempo per partecipare al nostro webinar quello di cui parleremo oggi l'argomento diciamo di oggi appunto Fusion 360 machine extension faccio una breve introduzione a Fusion 360 Fusion 360 come dicevamo è una piattaforma cloud ibrida quindi mi permette di lavorare con i miei dati in cloud reperibili in qualsiasi momento da pc mac dispositivi portatili come telefoni o tablet e ovviamente comprende tutta una serie di di tool che partono da quello che è l'ambito della progettazione mi consente di fare progettazione 2D 3D di solidi superfici lamiere e assemblaggi mi permette direttamente di definire anche analisi di andare a verificare le prestazioni dei miei componenti tramite i miei progetti tramite analisi elementi finiti ha poi una parte legata al manufacturing per generare tagli 2D come pantografi laser e fresatura oppure anche tutta una serie di strumenti 3D e multiasse per quanto riguarda l'ambito della fresatura e comprende direttamente anche il probing per quanto riguarda l'azzeramento oltre questo oltre al subtratto di manufacturing anche nella parte additive ci consente di programmare le nostre stampanti 3D a filo ma non è finita qui quello che è stato l'intento di Fusion è di creare una piattaforma core di base già molto completa ma andare ad aggiungere a questa secondo delle vostre specializzazioni quelle che sono tutta una serie di strumenti aggiuntivi ad esempio la machine extension di cui parliamo oggi che avrà al suo interno tutta una serie di funzionalità riguardanti riconoscimento funzioni lavorazioni multiasse 4 e 5 assi lavorazioni avanzate a 3 assi controllo controllo dimensionale e allineamento del particolare su macchina 3 4 e 5 assi quindi sono tutti strumenti avanzati che provengono tutti quanti da tecnologie Autodesk di alta gamma quindi Power Power Inspect e tutto quello che è il mondo di Fusion Fusion è la piattaforma sarà in futuro la piattaforma di Autodesk per tutti quelle che sono le soluzioni oltre appunto la parte di legata al cam abbiamo anche una parte legata al nesting quindi se producete lamiere componenti in legno usate tagli laser plasma eccetera direttamente c'è tutta una parte di nesting con anche tutta la definizione della costificazione la parte di generative design che è un nuovo paradigma che è più legata alla progettazione che è un nuovo paradigma di progettazione perché si basa su quelle che sono lasciamo al sistema modellare particolare in base agli sforzi che deve sostenere tramite scelte di materiale di sforzi e di quelle che possono essere anche le le tecnologie di produzione quindi se viene prodotto in stampa 3D o viene prodotto in fresatura possiamo scegliere chiaramente la variante che preferiamo ovviamente oltre questo anche sempre una parte di produzione abbiamo anche una parte chiamata manage manage extension e si può dire l'ultima arrivata di casa di casa fusion e mi consente direttamente di andare a gestire i miei dati quindi è un PDM con degli strumenti anche di programmazione e PLM che mi consentono di codificare e gestire tutte quelle che sono i miei dati tramite cicli di approvazione tramite cicli di revisione e poi legato all'additive invece tutto ciò che riguarda simulazione e programmazione di macchine a sintetizzazione laser quindi in tecnologia SLM detto questo passiamo alla parte dimostrativa che è quella anche per cui magari siete stati incuriositi e siete qua per vedere allora l'integrazione è fondamentale quindi Autodesk è posta il fatto che un sistema integrato tra CAD e CAM mi consenta di ridurre quelle che possono essere il passaggio dal disegno alla lavorazione dal disegno al pezzo finito nella maniera più veloce possibile tanto per cominciare piccola parentesi su Fusion è in grado di importare qualsiasi tipo di matematica CAD file propri file inventor chiaramente file solidworks unigraphics proe cata file step ig sat parasolid tutto ciò che è chiaramente provenire dall'esterno e direttamente dai vostri clienti quindi avete l'accesso a tutto quello che è il mondo del tridimensionale oltre questo direttamente essendo un software in cloud ha la possibilità di tracciare tutte le modifiche tramite versioning quindi potete generare n versioni del vostro progetto o della vostra programmazione le modifiche di progetto sono associative quindi di conseguenza non ho bisogno di conversione file quindi un cliente mi ha mandato un file nativo del proprio CAD mi manda la versione aggiornata io la sovrascrivo e mi troverò sempre le versioni aggiornate in maniera automatica quindi non dovrò star lì a controllare il mio file o la mia programmazione parliamo di lavorazione multiasse cosa si intende come lavorazione multiasse lavorazione multiasse sono particolari complessi con un determinato valore quindi che chiaramente più è complesso il particolare più il suo prezzo può essere diciamo della lavorazione può essere superiore quando si inizia a parlare di lavorazioni complesse quando iniziamo a parlare dai tre assi avanzati chiamiamoli in su quindi di conseguenza questo lavorazioni da tre assi lavorazione a quattro assi lavorazione a cinque assi mi possono servire per andare a sfruttare a pieno quelle che sono le funzionalità della mia macchina perché sicuramente le macchine non vi sono state regalate anzi al contrario avete fatto un determinato investimento e chiaramente il rientro di questo investimento e sfruttare le potenzialità di ogni singola macchina vi può portare ovviamente ad avere un vantaggio dal punto di vista strategico detto questo passiamo adesso a due brevi dimostrazioni dove vi mostrerò delle funzionalità avanzate legate al tre assi e delle funzionalità legate al quattro assi bene siamo all'interno dell'interfaccia di Fusion introduco giusto le estensioni dove si trovano all'interno dell'interfaccia si trovano qui in alto a destra e abbiamo estensione di PDM estensione di General Steel Design estensione di lavorazione chiaramente io ho l'accesso abilitato se non trovereste direttamente diciamo le modalità d'acquisto o altra cosa che vi consiglio se già utilizzate Fusion potete provarla liberamente gratuitamente per sette giorni se avete poi bisogno di supporto o comunque un aiuto per cominciare a utilizzare quelle che sono le funzionalità noi siamo chiaramente a disposizione detto questo dove si trovano poi i comandi in giro per le varie per i vari menu che abbiamo all'interno di Fusion allora giusto analizziamo questo particolare quindi vediamo che è un oggetto tridimensionale non di complessità estrema ma chiaramente andare a finire o a semifinire un componente di questo tipo tante volte può essere un problema perché? perché posso usare magari determinate strategie esempio vado a usare una strategia lineare se andiamo a analizzare la strategia lineare vediamo che in vista dall'alto è perfetta nel senso che tutte le distanze trapassate sono equivalenti perché normalmente come questo avviene chiaramente in tutti i cam viene programmato in piano e proiettato sulla superficie questo cosa però cosa mi consente di fare mi consente che per le pareti che magari sono a bassa pendenza o perpendicolari alla direzione sono vengono abbastanza perfette parallele alle direzioni vengono perfette quelle che invece vengono le pareti perpendicolari avranno tra virgolette un difetto dovuto al fatto che ovviamente aumenta la distanza tra le passate perché si lavora si parla sempre si ragiona sempre in proiezione quindi cosa dovrei fare i tredici minuti impiegati dovrei spendere ulteriori tredici per andare a lavorare incrociando la lavorazione quindi non lungo la x ma lungo la y ovviamente raddoppiando di fatto il tempo di lavorazione lavorando invece con la lavorazione a contorno cosa succede che stesso discorso lo guardo di fianco è tutto perfetto ma sulle zone a bassa pendenza aumenta la distanza tra le passate questo ha lo stesso identico modo perché perché viene calcolato affettando diciamo il nostro oggetto e poi si proietta direttamente la passata sulla superficie quindi detto questo allora cosa cosa è stata importata all'interno di Fusion una funzionalità chiamata ripida bassa pendenza già Fusion ha le sue tecnologie di planarità parallelismi scallop contorno rampa di tangenza tutte funzioni che normalmente servono nelle lavorazioni tridimensionali invece il ripido e bassa pendenza è una funzione che come vedete io adesso gli ho cliccato sopra sulla lavorazione già calcolati in un'unica lavorazione in grado di portarmi a termine direttamente l'intera lavorazione utilizzando una due o tre strategie contemporanee a seconda delle superfici che deve andare a lavorare se andiamo a vedere una breve simulazione noteremo che quando vado ad animarla esegue prima una lavorazione a tre assi sulla superficie poco pendente sulla parte ripida andrà utilizzare una lavorazione per intenderci in z a livelli z quando invece tornerà adesso lo mando avanti veloce in manuale quando invece arriverà al fianco ricomincerà con una lavorazione quando incrocerà un'altra superficie che ha magari rientra in un determinato range andrà a lavorarle direttamente utilizzando la lavorazione a scallop quindi a 3D passo costante come imposto questo comando intanto il comando si trova sulla barra degli strumenti se vado all'interno del comando anche se non avete mai visto l'interfaccia dico giusto due parole su quello che è l'interfaccia di Tecam Diffusion abbiamo scelta dell'utensile geometria le altezze di lavoro le passate e l'angolo soglia è quello che fa la magia cioè quando lui decide di cambiare da una strategia all'altra dai zero che è la planarità ai 30 gradi avrò questo tipo di lavorazione con un passo eccetera eccetera per quanto riguarda invece la parte ripida è dai 30 ai 90 gradi quindi dall'angolo di 30 gradi quindi più aumenterò questo elemento più diffonderò la passata a 3D passo costante ok se invece ovviamente la porta a zero verrà eseguito tutto in un unico modo ma chiaramente tanto vale utilizzare un'altra strategia a quel punto oltre questo abbiamo la possibilità di abilitare multiasse e abbiamo la possibilità di gestirci quelli che sono i collegamenti ok notiamo subito che qua abbiamo due strategie a ripido e bassa pendenza notiamo che questa genera degli spigoli vivi diciamo ovviamente se uso magari un passo laterale un po' ampio rischio di ottenere delle cuspidi allora all'interno dello stesso comando vi faccio notare la differenza possiamo abilitare due opzioni che sono l'ammorbidimento degli spigoli e la passata di ripresa di tutte le cuspidi questo avviene allo stesso identico modo in maniera automatica abilitando semplicemente due opzioni offset ammorbiditi e rimuovi le cuspidi quindi queste sono le due funzionalità che di differenza tra una lavorazione che era quella di prima che era spigolo vivo e l'altra che chiaramente mi consente un ammorbidimento una qualità superiore questo è in un certo senso un'automazione sulla quella che è la programmazione perché se io produco matrici stampo cavità eccetera tutti i giorni utilizzando un sistema del genere da prove fatte da autodesk a parità di pensi a parità di strategia a parità di strategie separate o strategie combinate il ripeto e bassa pendenza vi consente di risparmiare anche il 30% di tempo sul tempo di esecuzione quindi sono strategie che generano realmente pochi stacchi quindi adesso vado a riabilitare giusto i svincoli e le giunzioni vediamo che appunto oltre questi stacchi non va a generare quindi di conseguenza sono quasi sempre a contatto pezzo nella sua generazione quindi automatizzare anche la programmazione di finitura di semifinitura di un oggetto soprattutto quando mi trovo con oggetti di questa forma chiaramente può essere sicuramente vincente per sfruttare al pieno quelle che sono sia le mie macchine a tre assi che le mie macchine a multiasse Fusion come dicevo ha una sua parte di fresatura una sua parte di tornitura una sua parte di additivo una sua parte di ispezione una sua parte di fabbricazione legata al nesting e via discorrendo ovviamente quindi è in grado tranquillamente di gestire funzionalità e lavorazioni direttamente anche di tornitura quindi io posso programmare dei torni direttamente con sgrossature finiture del profilo apertura di gole tutto ciò che chiaramente mi consente di fare direttamente quindi una volta arrivato a questo punto abilito giusto la visualizzazione del grezzo direttamente in in diretta e mi troverò che ho lavorato tutto il componente e mi manca chiaramente da andare a lavorare tutta la parte diciamo questa sagoma a stella che può essere una camma può essere un elemento diciamo con delle sagome particolari utilizzando che cosa la lavorazione multiasse rotativa la lavorazione multiasse rotativa mi consente di andare a lavorare ed è creare percorsi utensili in rotazione su un determinato componente chiaramente questa lavorazione può avere principalmente tre logiche nel senso che una volta scelto l'utensile una volta scelta la geometria gli si indica da dove partire e dove arrivare come piani di lavoro ok fatto questo definiamo i raggi di svincolo o se abbiamo un diametro massimo a cui arrivare quelle che sono le passate di lavorazione quindi quant'è l'incremento e la strategia direttamente Fusion mi consente tre strategie con questa funzionalità come vedete anche l'interfaccia è molto diretta e vi fa capire su ogni tab che cosa state andando a selezionare però appunto strategia spirale strategia lineare quindi ogni grado di rotazione effetto una passata in lineare lungo l'asse oppure circolare farà una passata stacca riattacca una passata che magari è più ideale per quelle che sono le funzioni di sgrossatura quindi quello che noi otteniamo vediamo che è appunto un percorso utensile che andando a simularlo otterrò direttamente questa questo tipo di lavorazione dove la lavorazione comincia chiaramente a ruotare e potrò anche indicare degli offset rispetto all'utensile quindi l'utensile se magari nella finitura non voglio farlo lavorare in punta ho la possibilità diretta nelle tecnologie di andare a cambiare l'offset utensile quindi decentrare l'utensile in maniera da lavorare con raggio utensile o col fianco ovviamente questo può essere anche chiaramente sul circolare e sul radiale no però sulla parte lineare posso anche andare a limitare l'angolo di lavorazione quindi se ho delle corse limitate se ho delle zone che non riesco a raggiungere o delle corse magari anche su tornifresa classici è più difficile raggiungere magari delle corse elevate cosa posso fare posso andare a selezionare anche quella che è la mia area di lavoro che posso modificare in maniera dinamica o assegnare direttamente un punto e in base a questo punto assegnargli quello che può essere un delta quindi la lavorazione non deve essere per forza completa intorno all'asse ma può essere anche limitata a una determinata zona quindi fatto questo ottengo direttamente la mia lavorazione e quindi di conseguenza posso così andare a visualizzare quello che è il mio oggetto bene torno a quella che è la presentazione e andiamo al prossimo punto come aumentare precisione e qualità normalmente se io dovessi lavorare determinati tipi particolari che hanno un certo costo una certa necessitano anche di una certa qualità e ottenere qualità fa tante volte a cazzotti col tempo nel senso che questo ottenere una qualità elevata con dei passi magari minimi su uno stampo eccetera eccetera con delle strategie furie mi consentono chiaramente di risparmiare del tempo le strategie chiaramente mi consentono e velocizzano la programmazione e aumentano la qualità del percorso la qualità dell'oggetto finito cosa succede normalmente che io se vado a fare questo tipo di come dire di di lavorazioni magari incappo in strategie come è il prossimo esempio particolare di tipo aeronautico che è da ricavare dal pieno quindi c'è diciamo sono lavori anche molto soddisfacenti da fare e devo andare a finire questa lavorazione a questa superficie di fondo chiaramente vado a utilizzare lo stesso comando di prima che è ripido e bassa pendenza andando adesso all'interno della mia lavorazione dicendogli di simularmela quindi come dicevo è una lavorazione a tre assi quindi se io adesso vado a cliccare play noterò subito una cosa porto utensile rosso mi ha indicato che chiaramente l'utensile cioè la lavorazione andrebbe chiaramente a collidere con queste pareti quindi cosa avrei bisogno stiamo parlando di un'altezza di circa 70 mm dovrei usare una fresa molto sporgente per evitare la collisione oppure inclinarmi in determinate determinati raggiungere determinate inclinazioni per avere una qualità superficiale diciamo decente perché poi quando io inizio a esagerare con le sporgenze si innescano vibrazioni e quindi chiaramente potrebbe essere un problema stessa lavorazione con un'opzione in più semplicemente gli è stata abilitata la funzionalità multiasse dicendogli di trasformare un percorso a tre assi in caso di collisione a cinque assi quindi facendo questo quando vado a simulare il mio percorso utensile noterò sicuramente un aspetto che adesso il mio utensile arriva già con una determinata inclinazione andrà a effettuare la passata e questa inclinazione mi consentirà di evitare la collisione mano a mano che va avanti vediamo che va a raddrizzarsi per perché dove ci passa cerca di lavorare a tre assi dove non passa ovviamente mi darà il la limitazione su quella che è la mia lavorazione ovviamente questa funzionalità vediamo che l'utensile si muove molto abbiamo delle possibilità di dire al sistema come comportarsi con l'utensile quindi se io uso un ammorbidimento basso che prima era di 5 mm cosa significa che ogni 5 mm ha la possibilità di cambiare l'inclinazione dell'utensile se io uso un ammorbidimento più alto in questo caso 100 volte più alto noterete subito che quando vado a simularlo l'inclinazione dell'utensile avverrà in maniera molto più molto meno tra virgolette nervosa quindi io avrò un'inclinazione dovuta alla variazione rispetto alle facce ma cercherà di mantenere sempre la stessa inclinazione per rendere uniforme la lavorazione e di conseguenza aumentare la qualità superficiale la stessa identico sistema può essere utilizzato anche sulla lavorazione a scallo perché quando io vado a realizzare questa lavorazione di ripido e bassa pendenza io ho due tecnologie per le parti piane che sono lo scallopo la lavorazione parallela cioè lineare quindi facendo questo posso andare direttamente a ottenere un risultato dove con la stessa logica di prima l'utensile parte verticale quando inizierà a trovare una collisione noteremo che inizierà a variare quelli che sono i suoi angoli frontali e laterali come in maniera diretta quindi man mano che inizierà ad andare avanti noterò che l'utensile inizierà a inclinare e mantenere l'inclinazione per evitare semplicemente la collisione senza provocarmi nessuna collisione quindi percorso utensile sicuro e un sistema chiaramente di programmazione automatizzato non dovete inventarvi voi come attraverso quale curva lavorare o sistemi di questo tipo allo stesso identico modo ovviamente non consente solo l'inclinazione automatica intendiamoci ma mettiamo il caso che dobbiamo lavorare una di queste una di queste palette nello specifico questa posso lavorarla tramite una funzione di Fusion chiamata blend quindi una lavorazione dove si lavora in posizionamento quindi si definisce qual è la direzione è molto facile su Fusion definire le direzioni di posizionamento ok quindi io posso semplicemente ruotare la mia terna come voglio e dirgli qual è la faccia qual è la curva iniziale la curva finale cosa non mi consente di fare la blend non mi consente ad esempio di evitare determinate collisioni o andare a lavorare in zone di sottosquadro perché comunque sto lavorando a tre assi allora c'è la funzione di Flow cioè una funzione già nativa a multiasse che mi consente direttamente di andare a lavorare in trasformazione tra due curve alternativa alla lavorazione parallela quindi lavoro al contrario ok nella direzione dove appunto però sarò obbligato avere un posizionamento per lavorare metà lavorazione e un altro posizionamento per lavorare l'altra metà oppure sempre parlando di funzioni cinque assi che trovate già in Fusion Core lavorare in Swarthing lavorare in Swarthing è un'altra funzionalità che mi può aiutare ma mi consente solo un angolo di inclinazione rispetto alla superficie quindi una volta che vado a selezionare io vedrò che ovviamente inizierà a innescare delle collisioni allora potrò dirgli di controllarmi anche il gambo e evitare queste collisioni se invece vado a utilizzare la ad esempio la funzione di Blend potrei usarne metà da una parte e metà dall'altra chiaramente per raggiungere l'obiettivo usando invece ripido e bassa pendenza lo genero sempre come lavorazione posizionata per calcolare il percorso utensile ma poi lo trasformo direttamente quindi con l'utensile verticale quindi vado successivamente a trasformarlo in una funzione multiasse quindi direttamente il la mia inclinazione potrà avvenire o in maniera automatica oppure quali sono gli altri metodi che posso andare a sfruttare posso andare a sfruttare curve punti ok quindi in questo caso io non do non gli ho detto usa il verticale evita in automatico la collisione ma vincolati a questo punto che è un punto di schizzo che io ho disegnato nel vuoto e l'utensile attraverserà sempre questo punto perché perché magari per questa lavorazione è la condizione ideale quindi detto questo oltre la verticale lungo e perpendicolare verso il punto dalla curva verso la curva chiaramente trovo tutta questa serie di funzionalità che mi possono essere utili perfetto quindi anche nell'aumento della qualità evitare le costose collisioni chiaramente il tutto anche la funzionalità di rifiuto bassa pendenza con la funzione di evitare le collisioni mi può essere sicuramente utile ma parlando di automazione cam che cosa vuol dire automazione cam automazione cam vuol dire catturare quella che è la vostra esperienza il vostro modo di lavorare e andare a produrre particolari chiaramente affidabili riducendo chiaramente i tempi di consegna generare funzioni automatizzate quindi riconoscimento automatico delle forature riconoscimento automatico delle tasche ripido bassa pendenza vi consentono chiaramente di utilizzare delle procedure certe che vanno sempre dritte all'obiettivo cioè quello di ridurre i tempi di programmazione i tempi di esecuzione anche quelli possono essere ridotti tramite che cosa appunto quando prima si parlava di catturare l'intento cioè l'intento scusate catturare l'esperienza delle persone io posso portare il mio modo di lavorare all'interno di fusion tramite degli strumenti chiamati template e questi template possono essere richiamati direttamente all'interno della funzionalità andiamo a vedere quali possono essere questi strumenti abbiamo un componente relativamente semplice quindi una piastra porta tasselli porta stampo e via dicendo con svariate forature con determinate tasche allora considerate che altro nota fusion ogni sei settimane porta al suo interno delle novità cioè ogni sei settimane abbiamo una nuova versione queste novità sono legate all'ambiente CAD all'ambiente CAM all'ambiente dell'extension quindi anche nell'extension ci ritroveremo tutta una serie di funzionalità avanzate in più ad esempio una delle ultime anzi l'ultima che è stata introdotta è che se io volessi fare una tasca 2D dove voglio andare a finire tutto l'interno di tutte le tasche cosa vado a selezionare vado a selezionarmi chiaramente il mio utensile quindi anche qua io pesco dalla mia tabella l'utensile diametro 8 la geometria voglio non lavorare per tasche selezionate quindi cliccandole una a una ma dicendogli senti riconoscimele tu il riconoscimento fa parte delle funzionalità di machine extension quindi essere direttamente capire subito e identificare subito quelle che possono essere le lavorazioni standard nella lavorazione gli assegnerò di fare una profondità unica di lasciare sulle pareti 05 sul fondo lasciare 0 una volta effettuata questa lavorazione direttamente abbiamo tutte le nostre lavorazioni effettuate per quanto riguarda l'ambito delle tasche di conseguenza questa funzionalità mi aiuta nella selezione ma non si limita solo alle tasche se io dovessi adesso fare il profil le profilature di contorno 2D dove gli vado a indicare che voglio lavorare il riconoscimento tasca il raggio minimo può essere 0 in maniera che mi riconosca tutte le tasche la profondità massima normalmente prende quella del tagliente quindi il sistema intelligente abbastanza per capire fin dove può arrivare l'utensile chiaramente gli indico adesso che nelle passate voglio passate multiple tutti uguali con una passata in z di 3 mm una volta che darò l'ok alla mia lavorazione questa lavorazione viene calcolata e notate che qua adesso nell'albero avremo direttamente la finitura di tutte quelle che sono le pareti del nostro elemento voglio usare la compensazione non la voglio usare libere scelte chiaramente di chi programma fusion già dal punto di vista delle forature dà la possibilità di poter andare a forare direttamente adesso seleziono giusto così una geometria tipo questo foro e gli voglio indicare di riconoscermi tutti i fori dello stesso diametro quindi in base a questa faccia è in grado di riconoscere sia il punto di partenza al punto d'arrivo e in base chiaramente al diametro ma vorrebbe dire andare a fare una lavorazione un'operazione di foratura ogni dimensione allora dentro la machining extension è stata aggiunta direttamente il riconoscimento dei fori il riconoscimento dei fori cosa mi consente di fare mi consente di dire guarda io ho riconosciuto tutto perché chiaramente il sistema tante volte come sapete gli automatismi sono diciamolo ignoranti in un certo senso ma che cosa vi consente di fare il riconoscimento dei fori intanto andare a forare con quelle che sono scegliere per ogni foro di che cosa si tratta quindi questi qua sono centrini e foratura questi qua li voglio ignorare quindi posso escludere anche dei fori da quella che è il mio elemento e questi fori qua invece magari voglio una foratura semplice una filettatura una maschiatura e via dicendo quindi sono io chiaramente a scegliere che voglio un foro maschiato non passante gli indico direttamente il valore le librerie utensili da dove prende gli utensili di qua voi potete inserire direttamente le vostre librerie utensili in maniera da poter andare direttamente a lavorare a seconda di come credete una volta che date l'ok cosa accade viene calcolato il percorso utensili di ogni singolo tipo di foratura in fase poi di elaborazione del programma potremo anche generare delle ottimizzazioni per fare ad esempio prima tutti i centrini poi tutte le forature poi alla fine tutti i maschi tutte le lesature e tutto ciò che segue al posto di avere costanti cambi utensili adesso sta calcolando chiaramente la lavorazione sono 170 fori e quindi di conseguenza viene generato direttamente l'albero di tutte le forature che chiaramente gli abbiamo richiesto quando va a forare centrino trova un foro lamato genera anche un'interpolazione elicoidale per poterlo realizzare ma nella realtà dei fatti quello che noi possiamo anche andare a fare interrompiamo il calcolo e applicare dei filtri alla nostra selezione nel senso che all'interno delle opzioni possiamo togliere il limite dal piano di setup cosa vuol dire non for solo lungo la z ma se abbiamo una macchina 5 assi mi riconosce tutte e 5 le facce come lo facciamo dicendogli che l'angolo massimo di riconoscimento è 90 gradi quindi può lavorare sulle facce laterali posso ricercare per diametro quindi io voglio un diametro massimo di 25 mm perché più di quello su quella macchina non vado a fare e voglio ridurre al minimo il cambio tensile una volta che do l'ok andrà a rieseguire il ricalcolo dei fori chiaramente che mancano per darmi direttamente anche le forature laterali quindi notate che adesso avremo lavorate anche questi fori laterali dove viene fatto il preforo e poi viene allargato tramite un'interpolazione liquidale quindi tutte le lavorazioni vengono riconosciute in maniera automatica questo significa programming automation quindi automatizzare la programmazione di particolari che chiaramente come questo a bordo macchina o anche tramite altri sistemi cam risulta molto lungo e chiaramente molto problematico in termini di tempo per poter essere programmato verificato e lanciato direttamente in macchina quindi fatto questo se io lo seleziono vedrò tutte quelle che sono le mie lavorazioni così effettuate detto questo altro strumento che vi consente chiaramente di risparmiare del tempo è legato ai percorsi utensile quindi voi fate un percorso utensile 2D un percorso utensile 3D a seconda di quello che andate a fare direttamente potete andare a ottenere magari tante volte dei risultati di questo tipo quindi qui vediamo che abbiamo ottenuto questa caduta dell'utensile qui e qui per quale motivo perché non è stato possibile delimitare perfettamente la superficie quali sono i metodi migliori generare uno schizzo 2D chiudere il gap creare ritornare in ambiente di progettazione crearsi una superficie finta che mi aiuti per la finitura oppure con Fusion 360 c'è una funzione della Machine Extension che vi viene incontro in questo caso che è il taglio del percorso utensile quindi voi non fate altro che selezionare e disegnare un un poligono direttamente sul percorso utensile e questo poligono a seconda della direzione dove state andando a guardare il vostro oggetto verrà proiettato e andrà a tagliare direttamente il nostro percorso utensile posso mantenere tutto ciò che è al di fuori del boundary posso mantenere tutto ciò che è all'interno oppure tutte e due per ulteriori magari lavorazioni o per separare una lavorazione allo stesso identico modo adesso una volta calcolato voglio andare a eliminare un gruppo di lavorazioni niente di più facile mi metto in vista dall'alto mi creo il mio rettangolo di selezione e decido che tutti questi elementi debbano essere eliminati quindi è bastata una selezione tramite una selezione a finestra il sistema è abbastanza intelligente da non tagliare percorsi più lunghi e adesso magari mi accorgo che me ne sono dimenticato un pezzettino lo riseleziono e do l'ok quindi direttamente notate che non c'è neanche un tempo di ricalcolo perché? perché si rende conto quello che è il vostro intento e cosa volete fare con questo percorso in qualsiasi momento anche questo può essere eliminato e riportato il percorso utensile a quello che era lo stato originale ma non fa solo questo mi consente anche giusto per mostrarvi quella che è l'essensione di quelli che sono i comandi e la complessità dei comandi stessi che se ho questa lavorazione se vado a simularla cosa accade? accade che il mio utensile sporge poco e quando è in questa fase inizierà a ottenere una collisione quindi avrò una collisione da questa parte avrò una collisione da questa parte avrò una collisione dall'altra parte allora cosa succede? monto un utensile più sporgente ma montare un utensile più sporgente può innescare vibrazioni e tutto allora cosa voglio fare? mi seleziono la lavorazione gli indico sempre un taglio del percorso utensile e adesso cosa vado a fare? a dividermi il mio percorso però questa volta gli dico di mantenerli tutti e due una volta che confermo il percorso utensile verrà splittato in due percorsi uno per la parte alta uno per la parte bassa dandomi la possibilità una volta concluso di cambiare l'utensile per la parte di percorso che chiaramente io andrò a scegliere quindi la prima parte adesso si sta calcolando in termini di altezze in termini di lavorazione la seconda zona voglio andare a cambiargli l'utensile quindi clicco il tasto cambio utensile monterò un utensile sempre dello stesso diametro che è se vogliamo il limite attuale e una volta confermato andrò chiaramente a usare un utensile differente e più lungo che mi eviterà direttamente la collisione quindi vedete che anche la possibilità di poter lavorare direttamente su queste funzionalità vi evita direttamente la collisione senza nessun problema perfetto passiamo all'ultimo punto delle mie dimostrazioni quindi automatizzare setup e il controllo dimensionale come dicevamo prima accennava Marco l'azzeramento manuale richiede un sacco di tempo poi ovviamente dipende dal tipo di azzeramento perché ovvio che se andiamo ad azzerare particolari molto grandi carpenterie piuttosto che elementi del settore energia è più il tempo di movimentazione che quello di lavorazione e lì chiaramente diventa diventa lungo il tempo di setup ma se ho una persona esperta questo tempo di setup può essere ridotto chiaramente per i miracoli ci stiamo attrezzando dall'altra se devo magari andare sul classico centro a tre assi o cinque assi con la morsa autocentrante devo prendere montare il pezzo andare ad azzerarmi chiaramente la z la x e la y stando lì a fare dei conti e via dicendo se invece uso le sonde questo processo può essere completamente in termini di tempo azzerato quindi usare le sonde mi rende la macchina più precisa mentre l'altro metodo è meno preciso mi consente direttamente l'utilizzo di queste di queste sonde anche di andare a controllare la lavorazione effettuata e quindi e agire di conseguenza oltre che con le funzionalità di Fusion 360 nella machine extension anche di generare un allineamento quindi se dovete lavorare una fusione facciamo ad esempio potete tranquillamente andare a selezionare una serie di punti di ispezione e trovare il best fit quindi l'inclinazione degli assi ottimale per poter lavorare il tutto detto questo vediamo che sono state realizzate i probing dello zero tutte quelle che sono le lavorazioni di contorno lavorazione eccetera io adesso voglio accedere all'ispezione già Fusion include l'azzeramento Fusion Core include l'azzeramento per ispezione quindi per trovare lo zero e i fogli di ispezione manuale dove io poi assegno le tolleranze e vado a inserire le misure prese con magari gli strumenti di misura più classici quindi adesso cosa voglio fare voglio andare a analizzare e ispezionare questa geometria che io ho già lavorato una volta che ho selezionato mi girano da 4 punti a un approccio a un'extracorsa di 3 mm definisco tutti i suoi parametri e nelle altezze gli dico da dove partire e via dicendo bene quali sono le azioni conseguenti allora intanto posso confermarla entra all'interno del mio programma della mio elenco di programmi ma nelle azioni io posso dire se è fuori posizione intese come posizione xy rispetto a dove l'ho programmato bloccami arresta con un messaggio se la dimensione errata rispetto al diametro che gli ho assegnato le toleranze che gli ho assegnato è errato arresta quindi mi metterà direttamente un m0 che mi blocca direttamente la macchina oppure posso andare direttamente se l'elemento ovviamente le posso usare anche combinate queste opzioni ma tanto per intenderci se quest'operazione che era diciamo l'interpolazione liquidale di finitura di quella di quella superficie vado a tastarla ed è fuori tolleranza io posso andare a cambiare direttamente l'usura utensile e rilanciare in maniera automatica il programma quindi lui arriverà al ciclo di tastatura lo tasta nota quanto è l'errore e poi potrà andare direttamente a correggere la mia l'usura dell'utensile per poter rilanciare la lavorazione quindi vedete che effettivamente come processo di automazione è veramente molto potente dal punto di vista dell'esecuzione per quanto riguarda invece l'ispezione superficiale vediamo che Fusion tramite appunto l'ispezione superficiale mi consente di creare delle ispezioni direttamente legate all'oggetto quindi sempre con la mia sonda posso andare sulle geometrie e selezionare i punti sulla superficie che si adattano alla superficie ok e in questo caso io devo fare una tastatura per rilevare diciamo se questo componente è allineato per poter realizzare questa scritta tante volte alcuni componenti non si riesce mai ad allinearli perfettamente quindi di conseguenza una volta anche qua posso indicare sulle azioni se è fuori posizione fermati ok e una volta che do l'ok lancio questo programma in macchina la macchina mi restituirà un file di testo questo file di testo può essere processato direttamente all'interno come risultato di ispezione all'interno di fusion dicendogli guarda prendi questo file di testo che viene dalla macchina e mostrami direttamente quali sono i punti allineati quindi quelli in verde sono allineati in tolleranza quelli rossi sono fuori tolleranza in negativo quelli blu sono fuori tolleranza in positivo quindi se io monto il particolare vado a fare la tastatura vado a fare la mia lavorazione la scritta tra virgolette verrà fuori in questo caso l'incisione verrà fuori nella posizione errata di conseguenza utilizzando questo questa funzionalità sempre nel ciclo di ispezione abbiamo anche la possibilità di utilizzarlo per l'allineamento della parte quindi cosa succede io voglio allineare questo particolare su un 5 assi quindi sul 3 assi andrà a compensarmi x, y e z sul 4 assi andrà a compensarmi l'asse di rotazione e la x e la y sul 5 assi invece sia quelli che sono gli assi lineari che gli assi rotativi quindi io ho programmato ma basandomi sull'ispezione che lui va a effettuare posso tranquillamente dirgli senti fai una bella cosa usa questi risultati d'allineamento per trovare la posizione ideale cosa significa? significa che se prima avevo delle delle come dire posizioni che erano circa un decimo e mezzo siamo passati a due millesimi da meno un decimo siamo passati a sette millesimi viene creato praticamente un come si può definire un best fit di quelle che sono le x le y le z che sono state nominali e che sono quelle proiettate ovviamente questa deviazione viene praticamente si cerca di portarla in mezzo ok quindi nella tolleranza che noi gli abbiamo impostate quindi noi ci troveremo in macchina il nostro particolare posizionato è a zerato poi verrà applicato una rotazione uno spostamento d'origine una rotazione in gradi in maniera che queste che l'inclinazione della tavola della bascula e lo spostamento dell'origine mi generino direttamente un allineamento perfetto provate a pensarlo su una fusione questo dove le fusioni non sono mai dritte hanno sempre delle problematiche di conseguenza anche l'allineamento verrà messo in testa al programma per poter eseguire l'allineamento eseguire la tastatura eseguire l'allineamento e poi andare a eseguire la lavorazione in maniera da avere sempre particolare nella posizione corretta quindi abbiamo visto siamo al punto del riepilogo come le modifiche sono istantanee lavorando all'interno di un sistema integrato quindi lavorare all'interno di un sistema integrato mi dà questi vantaggi l'automazione dei processi che possono essere automatizzati esempio riconoscimento delle fratture delle tasche delle lavorazioni o la standardizzazione anche di una lavorazione è sempre automazione di processo la massimizzazione dell'uso della macchina cosa significa se io ho una macchina utensile e devo cercare di rientrare nell'investimento del più possibile e andare a sfruttare quelle funzionalità che mi consentono di sfruttare a pieno le potenzialità della macchina quindi prendiamo l'esempio una macchina a 5 assi tantissimi la usano in posizionato ma sfruttare il continuo se ne ha la possibilità chiaramente massimizzo il suo utilizzo oltre che ridurre i tempi e poter utilizzare quella macchina molto di più per poter ottenere una degli oggetti chiaramente sempre conformi con qualità maggiori all'aumento della qualità può avvenire tramite le sonde in process ma anche tramite tutte quelle che sono le strategie che abbiamo visto di conversione a 5 assi o di fresatura 3D avanzata e poi con questo si può andare a colmare il gap di competenze quindi trasmettendo dalla persona al software queste tecnologie queste modi di lavorare che sono magari i metodi che arrivano da 10 anni 20 anni 30 anni in esperienza ovvio non c'è lo spinotto ad attaccarsi dietro la testa come in matrix per passargli le conoscenze però chiaramente sono degli strumenti molto facili intuitivi per poter trasferire questa conoscenza e condividerla all'interno dell'azienda quindi con Fusion 360 potete progettare verificare all'interno del suo CAD elettrico per fare la progettazione anche di componenti mecatronici a tutta la parte di fresatura tornitura metodi avanzati di CAM stampa 3D e analisi elementi finiti che sono tutti gli strumenti che servono alle aziende per poter sviluppare i propri prodotti e cercare di essere sempre più innovativi e versati nel lavoro quotidiano bene io con questo ho concluso Marco ci sei ci sono domande? sì sono qua scusate grazie grazie Diego per la presentazione grazie per anche ovviamente i presenti su queste sono andati ovviamente un po' oltre il tempo comunque allora per quanto riguarda domande allora abbiamo ricevuto alcuni commenti in chat che vado subito a rispondere riguardo sì la parte della presentazione la registrazione verrà comunque inviata voi registrate i due partecipanti in seguito nei prossimi giorni quindi sicuramente se avete tempo di montare il video e sarà disponibile tempo esatto anche curiosità di rivedere qualche qualche spiegazione di Diego delle dimostrazioni che non è stata chiara appunto fare e ovviamente come detto potete scriverci anche per magari schedulare delle sessioni dedicate a riguardo comunque andiamo a vedere quella che è la parte appunto di domande che diciamo vado a leggere dalla parte Q&A penso che inoltre allora la prima Diego la giro a te che è un po' più sulla parte tecnica chiedono se è possibile limitare gli angoli di inclinazione nel controllo collisione automatico 5 assi sì c'è proprio una tab specifica dove possiamo inclinare l'angolo dove possiamo definire l'angolo massimo di inclinazione tante volte su alcune macchine magari con corse limitate questo può essere chiaramente strategico per andare a definire ho un limite di inclinazione di massimo meno 15 gradi posso andare sicuramente perché se no magari vado a toccare da qualche parte posso andare ad applicare questa limitazione la lavorazione verrà eseguita fino a dove riesce perché chiaramente se poi ci sono delle zone non raggiungibili dai meno 15 gradi dai 15 gradi di più o meno 15 gradi ovviamente non sarei in grado di portare a termine la lavorazione perfetto grazie l'altra sempre che non riguarda più la parte magari che hai dimostrato tu Diego i miei post processor sono fatti per un altro software cam posso utilizzare l'interno di Fusion allora la risposta è no nel senso che ogni software ha i suoi post processori ma Fusion 360 ha una libreria estesa di post processor che trovate direttamente online e pubblica e chiaramente sono post processor che vanno da specifici per macchine quindi ad esempio alcuni partner Autodesk come Mazak Mazak Takizawa Fanuc Ideline Siemens eccetera hanno realizzato i propri post processor che contengono già tutta una serie di opzioni per essere adattati alla macchina stessa è chiaro che poi se ci fosse l'esigenza di avere un post processor particolare o con una programmazione particolare abbiamo la possibilità chiaramente anche di sviluppare post processori dedicati ok grazie Diego poi ci chiedono anche una domanda Alessandro ci chiede riguardo a Fusion piace molto grazie Alessandro ci ha chiesto la possibilità di importare delle librerie utensili allora già all'interno delle librerie cloud c'è la possibilità sempre sullo stesso sito dove trovate le funzionalità ci sono già delle librerie utensili tanto per fare alcuni nomi trovate anche una libreria completa di ad esempio Sandvik per il metallo duro piuttosto che altri piuttosto che altri produttori e ovviamente c'è anche la possibilità volendo di importare tabelle utensili dall'esterno va formattata una tabella per importarle in maniera consona all'interno di Fusion ok grazie Diego per una precisazione sulla precedente invece domanda sui post processori se li avete da Inventor Camp o HSM Works che sono prodotti Autodesk invece sì sono praticamente gli stessi esatto esattamente andiamo magari con le ultime due se riusciamo a rispondere allora la prima ah ok inerente mi chiede appunto Luca abbiamo tre postazioni Fusion 360 vogliamo sapere se è necessario avere machine extension su tutte le licenze e cosa mi consigliate allora dipende un po' dai casi Luca esatto esatto nel senso noi saremo contentissimi di fornirti tre machine extension però chiaramente l'esigenza normalmente dipende anche dalla vostra produzione nel senso che se avete tre licenze e una magari viene utilizzata per programmare magari la persona più esperta programma le macchine cinque assi gli altri le macchine tre e quattro o dalla tipologia dei pezzi di quei delle tipologie di pezzi che dovete realizzare quindi avete delle macchine a quattro assi dovete lavorare dei pezzi in rotazione allora vi servono per tutti e tre oppure ne potete avere anche una all'interno del team e poi l'amministratore del team può assegnarla a chi è il a chi la dovrà utilizzare sono ovviamente degli accessi individuali per quanto riguarda la machine extension e ovviamente più diciamo più benefici può portare ovviamente quanto ovviamente più persone hanno accesso a queste tecnologie probabilmente può essere valutato di quasi in padre quindi se poi ci sarà occasione Luca che poi possiamo analizzare e l'ultima domanda riguardo il costo chiedono se la machine extension è anche inclusa nella promozione online sul nostro sito web attiva attualmente mi dico su questo sì abbiamo abbiamo attualmente accade a fagiolo era la penultima slide abbiamo attualmente appunto ancora un'offerta tempo limitato quindi fino a settimana fino a fine mese fino a luglio questa promozione che riguarda appunto gli abbonamenti annuali e triennali di Fusion 360 e questa volta riguarda anche appunto le estensioni quindi inclusa anche la machine extension quindi potete potete vedere anche sul nostro sito quello che ovviamente è il pricing appunto sia del Fusion 360 da base sia ovviamente del Fusion 360 con machine extension Marco sono finite le domande? sì questa era l'ultima perfetto ah no c'è ancora un'altra che mi è arrivata adesso da Alessio vedevo adesso scusate il chat il pezzo in macchina sente le modifiche fatte in 3D sul modello? allora se facciamo non ho capito la domanda cioè nel senso che chiaramente 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 una volta che abbiamo esportato il programma e l'abbiamo lanciato dall'esportazione del programma in poi chiaramente può succedere qualsiasi cosa potrei montare una punta da 8 al posto che una punta da 6 e quindi in conseguenza generare un errore diciamo che se io ho effettuato una programmazione ho messo ho lavorato il pezzo poi una volta che ho finito di lavorarlo mi hanno comunicato una modifica posso andare tramite la tastatura magari se l'ho già smontato a riallinearlo per effettuare le modifiche che ho chiaramente ottenuto è chiaro che la macchina deve avere il suo tastatore per poter per poter fare questa questa operazione anche perché tante volte su componenti magari di forme un po' complesse come può essere uno stampo andare a riallinearlo non è proprio un'operazione facile questa era l'ultima che ho visto adesso da Alessio grazie adesso per la domanda c'è anche dato un check di chiaro grazie Tiago ti ringrazia ok prego nulla con questo noi abbiamo concluso vi ringraziamo della partecipazione come detto vi invieremo nei prossimi giorni il materiale mostrato in questa presentazione concluso anche la registrazione del webinar con appunto anche le amministrazioni che ho fatto Diego sulle funzionalità Machine Extension questi sono i nostri contatti la quale potete scriverci o anche chiamare per quanto qualsiasi domanda nella presentazione Fusion con Machine Extension e vi ringraziamo vi auguriamo una buona giornata grazie Diego anche a te grazie a tutti grazie a te Marco niente vi rinnovo il mio saluto ringraziamento per aver partecipato e al prossimo webinar qualsiasi domanda poi abbiate volete approfondire una dimostrazione personalizzata e dedicata a voi chiaramente siamo a disposizione grazie mille da noi a me e Marco al prossimo webinar saluti grazie buona giornata saluti